cappella della madonna del carmelo di forma quadrata è rialzata rispetto al piano dell'attuale corso garibaldi il portale in pietra è sormontato da una piccola edicola con a fresco raffigurante la vergine con bambino un campaniletto si erge alla sommità del tetto a capanna nell'interno la piccola aula è coperta da una volta crociera e le decorazioni e le modanature sono realizzate in stucco sull'altare molto semplice sollevato di uno scalino rispetto al piano dell'aula è presente una tela settecentesca raffigurante la madonna con bambino fra due santi inginocchiati si segnala di fronte alla cappella murato sulla facciata di un'abitazione privata un frammento di basso rilievo in calcare rappresenta tre episodi della genesi in raffigurazione continua il peccato originale a sinistra a destra il sacrificio di isacco la scena centrale è composta da due figure maschili togate e reggenti in mano un rotolo con una donna inginocchiata di nanzi e forse rammentano l'incontro di sara moglie di abramo coi messi divini i quali venivano ad annunziarle che sarebbe stata madre